Poco dopo la sinistra apparizione della cometa di Allei, venne la terribile siccità del 1912, tutto il popolo era in pellegrinaggio e da giorni attendeva l'acqua ristoratrice, tornava esso a franto dal santuario coperto di polvere, coi volti stravolti dal dolore e dall'arsura, aridi come campi bruciati. Ma forse perché la fede non bacillò, all'alba del terzo giorno si era appena mosso il lungo corteo, che la benefica pioggia venne giù torrenziale e copiosa. Bagnati fra di cima felici, i fedeli non desistettero, il canto e la preghiera vinsero gli scrosci dell'acqua e treo e dopo, ancora sotto la pioggia, tornarono non più polverosi, ma talmente infangati da esseri irriconoscibili. Due labbari azzurri ricordano ancora oggi la fede di quei giorni. Bagliori di sangue e di fuoco, alla vigilia del primo conflitto mondiale. Non ritornò la Vergine quell'anno al santuario, e neppure fu celebrata la festa popolare, perché si avvertiva ormai tragico e ineluttabile il pericolo della guerra imminente, S. Castellano, Ricordi, 1932.